Il 21 aprile giovedì, buongiorno, bentrovati dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Massimiliano Chiocchio. Prima edizione del telegiornale che apriamo parlando del cosiddetto sistema Iorio. Il Tribunale di Campobasso demolisce la fantasiosa accusa di corruzione editoriale formulata dalla Procura della Repubblica nei confronti del direttore di Telemolise Emanuela Petescia e dell'editore Quintino Pallante, assolto l'ex presidente della Regione Michele Iorio. Ce ne parla in questo servizio Pasquale Di Bello. Il Tribunale Penale di Campobasso, presidente Salvatore Casiello, giudici all'atere Giampiero Scarlato e Roberta Donofrio, ha cancellato l'impianto accusatorio col quale la Procura di Campobasso aveva formulato l'accusa di corruzione della linea editoriale per la direttrice di Telemolise Emanuela Petescia e l'editore Quintino Pallante. Inoltre i reati loro contestati sono stati derubricati e prescritti e nessun illecito è stato dichiarato per le società Telemolise ed EBC. Questa è la vicenda tecnico-processuale che oggi smaschera un processo pieno di ombre nato in un momento particolare della vita politica molisana, come sottolinea la direttrice di Telemolise. Un processo che era destinato a crollare miseramente, come ho sempre detto sin dalla prima proroga per corruzione che ho ricevuto io e naturalmente parlo della posizione mia, di Michele Iorio e di Telemolise. Destinato a crollare perché ipotizzare la corruzione su una linea editoriale vicina ad un esponente politico o a un gruppo politico significa esportare questo reato in tutte le televisioni del mondo, visto che la linea editoriale è legittima e la può portare avanti qualsiasi media, qualsiasi organo di informazione. È stato un processo politico che nasce in un particolare momento politico, quello in cui Paolo Di Laura Frattura doveva vincere le elezioni perché aveva perso quelle del 2011, si dovevano quindi duplicare le elezioni regionali e guarda caso ai vertici della questura di Campobasso, perché è un processo portato avanti e gonfiato a dismisura dall'allora dirigente della squadra mobile di Campobasso, non dagli attuali uomini della squadra mobile nel 2012, Giuseppe Annicchiarico, dicevo guarda caso questo processo parte con questa polizia giudiziaria in quel particolare momento storico quando ai vertici della questura figurava la sorella di Paolo Di Laura Frattura. Ce ne siamo lamentati sin dall'inizio, il procuratore Armando D'Alterio non ha voluto sentire ragioni, ha accettato, ha criticamente e ha tradotto in reati, l'infinità di menzogne che io ho denunciato tra l'altro in tutti gli organi competenti d'Italia, menzogne declamate perfino in aula giudiziaria dall'allora dirigente della squadra mobile, Giuseppe Annicchiarico. Che cosa dire? Certo siamo contenti, in particolare Telemolise 1 e Telemolise 2, il fatto addirittura non sussiste, per tutti gli altri la corruzione non sussiste, sussiste soltanto un'ipotesi di abuso d'ufficio che sarebbe comunque prescritta in partenza, quindi non luogo a procedere. Ma questa gioia non ripaga sicuramente di questi dieci anni, per me poi trascorsi, tra Campobasso e Bari, tra un'aula giudiziaria e l'altra senza aver fatto nulla di male. Questa è la conclusione di questo falso, falso, maxi processo per corruzione. Per Michele Iorio si tratta dell'ennesima soluzione che oltre all'esito favorevole sul piano giudiziario rilancia l'ex governatore su quello politico. Guardando all'esito processuale più che di sistema Iorio si può parlare di sistema anti-Iorio. Questa è la ventiquattresima, in un periodo molto ristretto della mia vita politica, in cui si è scatenato un sistema contro di me, contro il mio governo, contro le cose che ho fatto, che facevo, che hanno prodotto, in questo caso, otto anni di processo e dieci di indagini. E' veramente la prima volta che nel Molise si svolge un processo del genere con tanta rilevanza, con tanti imputati, fino al punto che la stessa squadra mobile a un certo punto lo chiama sistema Iorio, evocando naturalmente immagini del tutto diversi da quello che poi è stato. perché questo sistema Iorio, appunto, di 44.000 pagine, di una ventina di capi di imputazione, una ventina di imputati, maxi processo a campo basso, si è risolto con la soluzione. Credo che, insomma, sia stato alla fine un processo politico. Più che sistema Iorio, è un sistema anti-Iorio quello che lei ha subito. Eh sì, mi pare che faccio una sindese e una definizione molto precisa. Le uniche condanne combinate dal tribunale riguardano l'ex editore della Gazzetta del Molise, Ignazio Annunziata, al quale sono stati inflitti 12 anni di reclusione, e l'ex direttore generale dell'ASRE, Mangelo Percopo, condannato a quattro anni. Dunque accuse destituite di fondamento e inconsistenti. E' questo a caldo il commento degli avvocati che hanno difeso l'ex governatore Michele Iorio e la direttrice di Telemolise, Emanuela Petescia. Sentiamo ancora Di Bello. Dopo la sentenza del tribunale di Campobasso, che ha demolito l'impianto accusatorio del processo intentato al cosiddetto sistema Iorio, parlano gli avvocati difensori dell'ex governatore e della direttrice di Telemolise, Emanuela Petescia. Ampia è la soddisfazione di tutti per aver visto accolte le proprie tesi difensive a partire dallo storico avvocato di Michele Iorio, Arturo Messere. E' il risultato di 50 anni di battaglie per la giustizia giusta. Non devo aggiungere null'altro. A difendere Michele Iorio e Emanuela Petescia, anche l'avvocato Alessandro San Marco del Foro di Roma, confutate le accuse della Procura, anni spesi tra indagini e processo e migliaia di pagine confluite in dibattimento. Sono intervenuto in questo processo in uno stadio avanzato, quindi ho dovuto prendere cognizione dell'imponente documentazione, dei numerosissimi capi di imputazione e poi ho constatato, come tutti in un'aula di pubblica udienza, l'inconsistenza delle ipotesi accusatorie. Tanto è vero che lo stesso Pubblico Ministero di Udienza, praticamente di fatto è come se non avesse discusso, ha presentato una breve memoria nella quale erano indicate le pene da combinare agli imputati, ma non c'è stata una motivazione per la quale il Tribunale avrebbe dovuto condannare gli imputati. Infatti il Tribunale ha assolto e ha sconfessato ogni ipotesi accusatoria. Tra l'altro c'è stata anche una derubricazione, quindi non solo un insuccesso dell'impianto accusatorio sul merito, ma anche sulla definizione delle ipotesi di reato. Sì, questa della derubricazione è una cosa che dovremo vedere bene leggendo la motivazione della sentenza che ci sarà depositata nei prossimi 90 giorni. Quindi io posso soltanto immaginare cosa può aver portato il giudice alla derubricazione e la cosa più importante da dire è che quindi non c'erano nemmeno giuridicamente gli elementi della configurata corruzione. Cioè la corruzione nemmeno giuridicamente era configurabile. Massimiliano Di Grezia è il legale che ha seguito la sola Manuela Petescia, anche da parte sua una censura sulla formulazione accusatoria prodotta dalla procura di Campobasso. È una pronuncia che ci dà piena soddisfazione. Questo perché almeno stando a quello che è il dispositivo, il collegio ha condiviso pienamente quella che era la nostra linea difensiva, ritenendo che non fosse mai esistito un patto corruttivo tra la dottoressa Petescia e la regione Molise, il presidente Iorio, ci soddisfa perché restituisce insomma quella che è una visione corretta di quella che non è stata invece la contestazione così come formulata, nata in un clima particolare, ma comunque fortunatamente insomma oggi il Tribunale di Campobasso, il collegio ha ristabilito quello che è un equilibrio corretto e una visione corretta dei fatti. Attimi di paura a Boiano ieri pomeriggio. Una lite di coppia, lui che minaccia la compagna, è lei che cerca la salvezza lanciandosi dal balcone. In seguito il compagno si è procurato ferite ed ha piccato il fuoco, distruggendo l'appartamento. Entrambi sono finiti in ospedale. Sentiamo in proposito Valeria Migliore. Tutto è iniziato nel pomeriggio da una litigata tra una giovane coppia di Boiano, lui del posto, lei ucraina come testimonia anche la bandiera sul balcone del primo piano dove qualche ora più tardi sarebbe successo il peggio. Una litigata talmente violenta da richiedere l'intervento dei carabinieri. Tuttavia non è bastato l'arrivo delle forze dell'ordine in tarda serata stando alle prime ricostruzioni, lui prima si sarebbe provocato delle ferite e da quanto si apprende dai testimoni non sarebbe nemmeno la prima volta e poi avrebbe minacciato la compagna con della benzina. A quel punto, in preda al panico, la giovane ucraina si è lanciata dal balcone riportando gravi traumi. Entrambi sono al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Intanto le fiamme sono divampate. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e i carabinieri di Boiano per ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi del dolo è la più probabile, ma le indagini sono ancora in corso e tutte le ipotesi restano aperte. Fondamentale per chiarire i contorni della vicenda sarà la testimonianza della giovane donna. Quando siamo entrati di fatto l'incendio era già in una fase avanzata e le due vittime erano già state portate. Tutto è iniziato nel pomeriggio da una litigata tra una giovane coppia di Boiano, lui del posto, lei ucraina come testimonia anche la bandiera sul balcone del primo piano dove qualche ora più tardi sarebbe successo il peggio. Una litigata talmente violenta da richiedere l'intervento dei carabinieri. Tuttavia non è bastato l'arrivo delle forze dell'ordine. In tarda serata, stando alle prime ricostruzioni, lui prima si sarebbe provocato delle ferite e da quanto si apprende dai testimoni non sarebbe nemmeno la prima volta e poi avrebbe minacciato la compagna con della benzina. A quel punto, in preda al panico, la giovane ucraina si è lanciata dal balcone riportando gravi traumi. Entrambi sono al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Intanto le fiamme sono divampate sul posto, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e i carabinieri di Boiano per ricostruire quanto accaduto. L'ipotesi del dolo è la più probabile, ma le indagini sono ancora in corso e tutte le ipotesi restano aperte. Fondamentale per chiarire i contorni della vicenda sarà la testimonianza della giovane donna. Quando siamo entrati, di fatto l'incendio era già in una fase avanzata e le due vittime erano già state portate al pronto soccorso e abbiamo proceduto allo spegnimento dell'incendio. Ora sono in corso ovviamente le indagini del caso sul quale c'è ovviamente il riservo. Doloso? Doloso? Attualmente sono in corso le indagini, quindi ovviamente non escludiamo nulla. Vediamo adesso i dati Covid con l'ultimo bollettino diffuso dall'azienda sanitaria regionale. Alto il numero dei nuovi positivi che sono 565 su 3.225 tamponi refertati con il tasso di positività al 17,5%, 428 i guariti. Non ci sono decessi, 3 i ricoveri, di cui 2 nel reparto anziano fragile e 1 in malattie infettive, reparto dal quale si registra anche una dimissione. Sono 34 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, sempre 2 in terapia intensiva e 18 in malattie infettive. Dei nuovi positivi 88 sono di Campobasso, 48 di Sernia, 45 di Venafro, 44 di Termoli, 23 di San Martino in Pencilis, 20 di Larino, 16 di Agnone e Boiano. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Sono 8.769 gli attualmente positivi nella nostra regione. Bene, con questa notizia ci fermiamo con il nostro Tg. Adesso uno sguardo ai quotidiani locali e nazionali. Siamo sul web, sul giornale del Molise, in evidenza la giudiziaria, sistema Iorio, gli avvocati parlano degli avvocati di Petescia e dell'ex governatore. Inconsistenti le accuse della Procura, la corruzione non è nemmeno ipotizzabile, hanno detto i legali. La notizia da Boiano, la minaccia con la benzina, lei si getta dal balcone e poi divampa l'incendio. Il Covid, 565 nuovi positivi e 428 guariti, oltre 3.000 i tamponi processati e sono i dati forniti dall'azienda sanitaria regionale. Restiamo a Via Petrella, parla il direttore generale Asrem Florenzano, riparte dalle assunzioni la sanità molisana, 46 da inizio anno. Siamo adesso su primo piano. Crolla il sistema Iorio, assolto l'ex presidente. Cadute le accuse più pesanti al termine di un processo durato 5 anni, derubricati e prescritti altri reati. 16 gli imputati, i giudici di primo grado, hanno condannato solo l'editore Ignazio Annunziata. E' l'allora manager dell'azienda sanitaria regionale, Angelo Percopo. L'ex governatore, volevano distruggermi politicamente, è la fine di un incubo. Di spalla, fascicolo unico, concorsone, protezione civile, nessun abuso, il fatto non sussiste. Dunque si torna ancora a parlare del cosiddetto sistema Iorio. Vediamo le altre notizie. Dramma Boiano, ennesima lite, appartamento in fiamme. Lui appicca il rogo, lei si lancia dal balcone. Entrambi quarantenni, la donna ucraina e l'uomo del posto, trasportati in ospedale. Il bollettino Asrem, tra i richiami a centropagina, tre ricoveri e un dimesso, 565 positivi e 428 guariti. La morisana uccisa, la donna di Petacciato, Sonia Di Pinto, atteso il rientro della Salma, camera ardente in municipio. E c'è un giallo, parroco, 72 anni di San Martino, muore a Perugia, indaga la polizia. Adesso a Riccia, emergenza cinghiali, agricoltori e allevatori. Andiamo a fondo pagina, aeroporto di Foggia, la Puglia chiama, Gravina risponde. Il sindaco dice, grande opportunità per il nostro territorio. Il punto, oggi porta la firma di Umberto Berardo, cercare con forza la pace. Vediamo anche le notizie sotto la testata. C'è il calcio, i lupi chiuderanno in casa con l'impotenza, all'andata il blitz salvezza. Il vaso girato di sconfitta di misura a San Benedetto. Poi nel calcio regionale, quello di eccellenza, Termoli contro la rovescia scattato. Indì già domenica al Cannarza e quello c'è un punto di domanda. Adesso i quotidiani nazionali. Iniziamo con il Corriere della Sera. Donbass rallenta l'avanzata russa. Al fronte della cosiddetta fase 2, truppe in stallo. Altre armi all'Ucraina. E Putin testa un super razzo. Andiamo più in basso. Ci occupiamo della Francia. Mosca, economia e ambiente. Macron attacca. Le Pen tiene. Ieri in TV l'ultimo duello. Domenica il ballottaggio. Ci spostiamo adesso su Repubblica. Grande foto. Corsa alle armi. Quella come vedete in questa foto, appunto, il nuovo missile di lancio, di prova. Lanciato appunto dalla Russia. Putin sfodera il missile intercontinentale Sarmat. E avverte, può battere qualsiasi difesa. Farà riflettere i nostri nemici. Dai paesi Nato, armi pesanti all'Ucraina. Michelle dell'Unione Europea. Vogliamo la vittoria di Kiev. Ma la Germania si smarca. E c'è gelo al G20. E Macron accusa Le Pen nel duello TV. Lei sta dalla parte del Cremlino. Dalla Repubblica adesso ha libero sanzioni di kamikaze. La beffa di Putin. Titola il quotidiano. Mantenere gli yacht degli oligarchi ci costa 150 mila euro al giorno. Lo Stato cerca soluzioni per non pagare. I sequestri però sono al limite della legalità. Rischiamo di dover risarcire tutti. Intanto l'Unione Europea annuncia un nuovo piano verde e fa schizzare il prezzo del gas. Da libero al tempo quotidiano della capitale che si occupa di aspetti legati proprio a Roma. Che avrà un termo valorizzatore. Forza Gualtieri. Titola il quotidiano della capitale. In basso le condizioni di Putin per la pace. Proposta a Kiev. Vuole la Crimea russa. e l'indipendenza del Donbass. Il fatto quotidiano. La Germania molla i bellicisti. Basta armi. Scholz non ne invierà di nuove a Kiev. Ma Draghi vuole mandare artiglieria pesante. Allarme negli Stati Uniti. Finiranno, dicono, sul mercato nero. Forse pure ai russi. In alto Mosca fa una proposta. Kiev risponde. Vi faremo sapere. Intanto Putin testa un nuovo missile intercontinentale. Questo è quello che leggiamo sul fatto quotidiano. Adesso il mattino, anche qui, questa foto e questa notizia. Putin minaccia il mondo. Testato il missile nucleare intercontinentale. Lo ZAR dice, farà riflettere tutti. Gli Stati Uniti replicano, non fa paura. E con l'Unione Europea lasciano il G20 quando interviene la Russia. Il negoziato, titolo di apertura del manifesto di oggi, sullo sfondo di questo missile intercontinentale, scambio di accuse tra Mosca e Kiev sui corridori umanitari di Mariupol. Dalla città portuale, assediata. L'appello disperato dei soldati ucraini. Queste sono le nostre ultime ore di vita, hanno detto. E Putin presenta il nuovo missile intercontinentale russo. E dice, per chi ci minaccia. In basso un'altra notizia. Assange, estradizione confermata. L'attivista negli Stati Uniti rischia 175 anni di prigione. Adesso passa la parola ad altre istituzioni. E dal manifesto, appunto, al quotidiano della CEI avvenire, le ultime ore di Mariupol. Scaduto l'ultimatum dei russi, ma il battaglione nell'acciaieria non si arrende. Corridoio umanitario solo per un centinaio di civili. Putin testa un nuovo missile intercontinentale. Abbiamo visto che ha detto farà riflettere chi ci minaccia. Intanto nuovi appelli per un cessate il fuoco a Pasqua. Si parla della Pasqua a Ortodossa. In basso, petrolio nel mirino dell'Unione Europea. L'Italia cerca altro gas. Verso nuove sanzioni a Mosca. Missioni a Luanda e Brasaville. Chiudiamo anche il quotidiano della CEI per passare al sole 24 ore. Un focus sull'eolico. 40 siti in mare, ma tempi lunghi. Si legge sul quotidiano di Confindustria. Italia all'avanguardia nella tecnologia, ma pesano gli ITER e le opposizioni locali. Anche qui la foto del missile intercontinentale lanciato da Putin, dalla Russia. A fondo pagina Netflix perde abbonati e precipita a Wall Street. Tonfo del titolo di Netflix. Uno sguardo alla stampa. Pietà per Mariupol. E qui la foto di alcune persone ricoverate. Quello che può sembrare un ospedale, ma non lo è. Viaggio nella città distrutta, dove gli assediati resistono alle bombe e alla ferocia dell'esercito del Cremlino. Di spalla, velo, rubli, pensioni. In TV Macron vince la sfida con le penne. Anche qui Assange a rischio il tribunale, che dice sì all'estradizione. Intanto il G20 si spacca sulle sanzioni a Putin. Stati Uniti, Canada, BCE e Unione Europea lasciano l'incontro mentre parla il ministro russo. Italiani e tedeschi restano seduti. Dalla stampa, adesso alla verità, apertura diversa rispetto alla maggior parte dei quotidiani nazionali. La sentenza non vale per i Benetton, così incassano 1,2 milioni al giorno. Un altro regalo dopo i rimborsi per la pandemia. Atlantia ha la concessione sulla Brescia Padova, scaduta nel 2013. Malgrado il Consiglio di Stato abbia sancito che non è più valida. E' la fortuna di avere Santi Pd in paradiso, scrive il quotidiano di Maurizio Belpietro. A centropagina l'Unione Europea prepara il suicidio. La Germania resiste. Verso il sesto giro di sanzioni, gas e petrolio. Berlino spaccata dalle pressioni americane sull'invio delle armi. C'è quest'altra notizia a fondopagina. Pillola abortiva alle minorenni. Il giudice dice sì. Il farmaco dei cinque giorni dopo in vendita senza ricetta. Il secolo d'Italia. I russi resuscitano pure Lenin. E' incubo Unione Sovietica. In basso invece Zelensky con armi promesse. Avremo già sconfitto i russi, dice il presidente ucraino. Intanto la Meloni. La Morgese ha messo l'Italia in balia dei fattoni. D'Europa, ha detto la lidere di Fratelli d'Italia. Adesso lo sport sulla Gazzetta. Gran finale Juve. Si parla della Coppa Italia. Sarà dunque rivincita con l'Inter. La Fiorentina battuta anche allo Stadium. 2-0 con gol di Bernardeschi e Danilo. Allegri Lancia dice io qui almeno altri tre anni. Di spalla, derby scudetto, Ibra. Il rinnovo con il Milan dipende da Inverse Corp. Più in basso Lautaro obiettivo tripletino col futuro in sospeso. Questo per quanto riguarda il calcio. In alto invece l'automobilismo, la Formula 1, Leclerc. Hanno i due. Verstaff, ne dice Ferrari, da titolo con Charles. Sarà duello mondiale. Bene, anche oggi con la Gazzetta terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Grazie per averci seguito. Vi ricordo alle 14, la seconda edizione del Telegiornale. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.